Si svolge il 7 e l'8 di settembre allo SMESH a Baia Flaminia ed è il quarto anno iniziato con noi opera grazie allo SMESH che ci ha chiamato dalla prima volta e siamo tuttora presenti, fanno tutto è logico per beneficenza in maniera che ci arrivano dei fondi per mandare avanti la nostra associazione che ha molte spese, molti costi ed è completamente pesarese. L'organizzazione è la medesima dell'anno scorso, faremo sia sabato che domenica dei gironi composti da squadre, da due uomini e due donne aperto a tutti, amatori, chiunque, l'importante è portare gente a fare beneficenza allo Iopra. Nella giornata di sabato sia nel circolo di Via Toscana che nel circolo di Baia Flaminia faremo tutti i gironi e eliminazione, poi dopo nella giornata di domenica ci saranno le semifinali e le finali in Baia Flaminia con le varie premiazioni e tutto e cerchiamo di finire per l'ora di pranzo. Ci si può iscrivere ancora fino a giovedì, più siamo e meglio è, logicamente. Fin dall'inizio, quattro anni fa, abbiamo cercato di dare il nostro contributo, abbiamo messo insieme anche le forze di altri club della provincia, anche quest'anno ci sarà oltre l'Ions Club di Gabice ci sarà anche l'Ions Club della Rovere di Pesaro e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo perché proprio nella mission, nello spirito della nostra associazione è quella di esserci, di essere presenti quando si può per aiutare i bisogni della comunità e in questo caso parliamo veramente di un tema di straordinaria importanza a cui noi diamo tutta la nostra disponibilità. L'OIOPRA è un'associazione nata a Pesaro nel 1987 e l'aveva fondata la dottoressa professoressa Antoniello, in memoria Carlo Antoniello, in memoria del marito Raffaele che era dicciuduto di cancro quindi da allora noi siamo andati sempre avanti con tante difficoltà perché anche il momento del covid ci ha veramente esteso però siamo in piedi e con difficoltà che ci vengono portate, lo devo sottolineare, soprattutto anche dalla sanità perché ci ha caricato e ci sta caricando di più pazienti e i fondi sono sempre meno quindi noi il rimborso spese al nostro personale che è numeroso dobbiamo darlo e quindi cerchiamo alternative ecco tipo il padron.